Ciao a tutti ragazzi, sono Make-A-Wish e questo è uno dei pochi video in cui vedete anche la mia faccia. Se siete nuovi del canale, vi spiego un attimino chi sono e cosa faccio. Io sono un venditore e collezionista di carte Pokémon e sul mio canale ogni settimana cerco sempre di creare nuovi video relativi a tutte le nuove carte che mi arrivano, alle volte anche delle vendite di carte che faccio durante la settimana e in altri casi dei tutorial per collezionisti e per aspiranti venditori proprio come me. Oggi faccio un tutorial che mi è stato richiesto in alcuni casi e riguarda appunto come trovare, come acquistare carte Pokémon, anche rare, ultra rare e lotti di carte Pokémon, proprio come vedete sui miei video, a prezzi molto bassi o comunque decisamente scontati rispetto a quello che si trova normalmente online. Come vedete, noi siamo adesso sulla home page del mio profilo ebay ed appunto devo già dirvi che il 99% dei lotti che mi vedete comprare a prezzo molto basso, quindi che mi permette di fare un guadagno se volessi rivenderlo, accade tutto qui su ebay. Quindi, praticamente appunto sì, al 99%. E quello che faccio io è una cosa anche molto semplice, serve solo un attimino di dimestichezza con i prezzi delle carte, con ebay stesso e un po' di tempo da perdere. Sono due metodi, parto dal primo metodo adesso. Il primo metodo è molto molto semplice e si tratta di cercare Pokémon, quindi per adesso semplicissimo, e qui sui filtri, su Mostra Prima, voglio guardare tutte le carte, tutte le inserzioni relative a Pokémon che sono state appena messe in vendita. Quindi appunto, come vedete, sono le 18 e 57, queste due carte sono state messe in vendita appena 4 minuti fa. Questa 5 minuti fa e andando giù appunto si vede tutte le carte che sono state messe in vendita appunto da poco. In questo caso, io voglio andare giù per un paio di pagine alla ricerca di carte singole o lotti che sono stati semplicemente prezzati male perché chi li ha messi in vendita non sapeva del valore effettivo delle carte che ha messo in vendita. Come me, ci sono centinaia di altre persone in ogni momento che fanno questa ricerca e ordinano per gli appena messi in vendita. Quindi è difficilissimo trovare degli affari, ma certe volte potete trovare qualcosa che ne vale molto la pena. In ogni caso appunto, adesso si guarda un attimino che carte ci sono e alla ricerca appunto di una carta, un lotto che è molto più basso, con un prezzo molto più basso rispetto al valore di mercato della carta o delle carte in vendita. Questo è un Charizard cristallino spaccato completamente. Questa non è praticamente neanche una carta ormai. Comunque, si va avanti e appunto quando si arriva a mezz'ora, 45 minuti, massimo un'ora indietro rispetto a quando si è iniziato la ricerca state tranquilli che non ha più senso andare indietro perché se c'erano degli affari sono stati molto probabilmente già soffiati da chi è stato più veloce di voi. Quindi, questo è uno. Tendenzialmente con questo metodo è molto più probabile trovare carte singole prezzate male piuttosto che lotti. Il secondo metodo che utilizzo è, cerco sempre Pokémon, però questa volta voglio vedere tutte le aste e soprattutto voglio vedere quelle in scadenza, quindi quelle che scadono molto presto. E quello che faccio qui è, vado indietro, indietro, indietro alla ricerca di lotti o carte che o con poche offerte o comunque con un prezzo attuale ancora molto più basso rispetto al valore effettivo dell'inserzione delle carte messe in vendita. Quindi, vado indietro, qui per esempio c'è, qua c'è una Dragonite Fossil, prima edizione però no, come vedete appunto c'è una piega terribile, non è sicuramente una carta messa bene. Però, appunto, se fosse stata una carta tutto sommato messa bene, per 14,50€ attualmente potrebbe essere una buona inserzione da seguire, una buona asta da seguire. Nel caso trovo un'asta interessante da seguire, la cosa bella di Ebay è che puoi aggiungerlo ai tuoi osservati e così, in ogni caso, in ogni momento, Ebay si ricorderà sempre delle aste che stai guardando, a cui sei interessato. In ogni caso, appunto, vado giù, 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 ed è una cosa, come vi ho detto appunto, vado indietro di ore, certe volte anche proprio di un intero giorno, alla ricerca di qualcosa, qualcosa con poche offerte o dal prezzo ancora basso rispetto a quello che un collezionista spenderebbe. Quindi vado giù, 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 fin quando qualcosa magari cattura il mio sguardo, me lo apro, me lo guardo, vedo di cosa si tratta, questo non ho onestamente idea di cosa siano, e se mi interessa la aggiungo agli osservati, se non mi interessa chiudo semplicemente e vado indietro. Qua c'è uno Shining Magikarp italiano, però appunto anche qua è proprio in condizioni pietose, quindi niente. E si va avanti, e vado avanti, vado avanti, vado avanti, fin quando non trovo qualcosa. E vi assicuro che ogni giorno ci sono almeno due, tre lotti con un prezzo molto più basso rispetto a quello che un collezionista qualsiasi pagherebbe. In ogni caso, continuo, lotto carte Pokémon, holo, 70€. Qua ci sono delle carte interessanti, 10€ più 70€ sono comunque 80€. E purtroppo, con questa singola foto, non è assolutamente possibile stabilire effettivamente le condizioni di queste carte. E quindi, 80€, se tutte queste carte fossero in condizioni perfette, pari al nuovo, 80€ sarebbe un prezzo molto buono. Se invece, come sospetto, il retro di queste carte è pieno di segni con tutto il bianco attorno, tutte rovinate attorno, 80€ è già troppo. Ma, facciamo finta che sono in condizioni fantastiche. Prima di tutto, l'aggiungo ai miei osservati e mi guardo quando finisce. Finisce alle 19, l'asta finisce alle 19.46. Quindi, mi metto una sveglia sul cellulare alle 19.42, quando mancano appunto 4 minuti. E la cosa più importante che faccio è, mi faccio prima, stabilisco prima un tetto di prezzo che voglio offrire. Come faccio a stabilire questo tetto massimo che mi sento di spendere in questo caso? Facciamo finta che il totale di queste carte è 200€. Se effettivamente il costo di queste carte, che io stimo, è di 200€, posso sempre andare a vedere su Card Market tutte le carte singole e farmi le somme. Io, la mia regola, la regola che utilizzo per effettivamente poi rivendere eventualmente delle carte per un guadagno, è che voglio spendere al massimo il 60% del costo effettivo delle carte. Certe volte il 50%, certe volte il 60%. Per lotti veramente molto molto grandi posso anche fare delle eccezioni, quindi 70% massimo massimo. In ogni caso, mi tengo tra il 50% e il 60% del prezzo di mercato. Facciamo finta che 200€ è il prezzo che questo lotto vale appunto. Per scoprire il 60% di 200, faccio 200 per 0,6 e quindi mi viene 120. Questo significa che 120 è il costo massimo che sono disposto a sostenere per comprare queste carte ed essere sicuro di eventualmente fare un guadagno. Dunque, abbiamo detto 120, il prezzo di spedizione è 10€. L'offerta è 70, quindi significa che il totale già è 80. Quindi, io, la mia offerta massima che voglio fare è 110. 110 più 10€ di spedizione fa 120. Molto bene, ora che abbiamo scoperto qual è il tetto massimo che sono disposto, che siamo disposti a spendere per questo lotto, è ora di aspettare che la sveglia che ti sei impostata sul cellulare suoni. Quando la sveglia suona, ritorni subito su ebay, controlli tra i tuoi osservati, entri su quest'asta e guardi un paio di cose. Allora, la prima cosa che devi guardare è appunto, se le offerte hanno già superato i 120€ che sei disposto a spendere, mi raccomando, non ripensarci. Se il 60% è il tetto massimo che vuoi spendere, basta. È finita. Perché se no, appunto, se inizi a volere assolutamente a tutti i costi comprare quel lotto, finisci per offrire così tanti soldi che ormai non ti conviene neanche più acquistare il lotto in sé. Quindi, se quando arrivi, se quando arrivi non c'è, non ci sono, non ci sono ancora offerte, o comunque ci sono, ci sono poche offerte e il prezzo attuale è inferiore ai tuoi 120 che vuoi spendere, ti tieni pronto con l'offerta da 110 e controlli, e controlli esattamente quanto manca, il countdown. Io non offro assolutamente nulla fin quando non mancano esattamente 4 secondi alla fine dell'asta. Questo perché, se faccio la mia offerta, quando mancano 4 secondi alla fine dell'asta, 4 secondi sono abbastanza per far capire ad ebay che hai offerto. E però sono troppo pochi per chiunque altro per replicare la tua offerta. Quindi, sostanzialmente, l'unico modo con questo metodo di perdere effettivamente quest'asta era, o è, se qualcuno aveva già automaticamente impostato la propria offerta a più alta di 110. Quindi, quando mancano 4 secondi, fai la tua offerta e dopo appunto 4 secondi sai se sei riuscito ad acquistare questo lotto oppure no al tuo tetto massimo. La cosa che voglio assolutamente dirvi è non rivedete mai i soldi che siete disposti a spendere, perché se no si rischia di non fare dei begli acquisti. Solo questo. Detto questo, più o meno, è questo quello che faccio ogni giorno per cercare qualcosa di nuovo. Controllo, vado indietro, vado indietro, fin quando non trovo qualcosa che effettivamente, per esempio, eh, questi sono anche in buona condizione, 10 più 3 euro, però comunque sono già abbastanza vicini al loro prezzo di mercato. E, in ogni caso, questo, più o meno, è quello che faccio ogni singolo giorno per permettermi di acquistare sempre nuove carte e costruire la mia collezione lotto dopo lotto. Diciamo che, se siete rimasti fino alla fine, sapete quello che faccio. Se non sono stato chiaro in alcune cose, fatemelo sapere nei commenti oppure mandatemi un'email, scrivetemi su Instagram. Tutte le cose, tutti i miei dati, appunto, sono in descrizione. E niente, se vi è piaciuto il video e volete vedere, magari, altri tutorial di questo genere, lasciatemi un mi piace, che mi aiuta infinitamente, iscrivetevi, se non l'avete ancora fatto, e condividete il video con i vostri amici. E questo è tutto, grazie ancora, e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!